E che cos'è questo fine perfetto Blitz? Benvenuti alla Red Bull Fractions! Cinque dita, le due ore dell'eliminatore che adesso carano forti casamente, i player iniziano già a risultare, questa è la fine, gli outplay! Robert Benidro! Tre bersagli! Rares potrebbe ucciderli tutti quanti! Colgo degli outplayed che non hanno alcuna risposta! Signore e signori, i Crespold dominano per il terzo anno di fila! Grazie! Grazie!